Assalto al blindato banditi col Kalashnikov, un commando ha bloccato un mezzo della Cosmopol tra Montoro e Fisciano sull'Avellino Salerno, bottino da 100.000 euro le drammatiche testimonianze spietati e feroci erano pronti ad uccidere. Sciopero taxi, tensioni a Napoli. Anche nel capoluogo partenopeo monta la mobilitazione dei tassisti contro la multinazionale Uber. In piazza Borsa un crumiro ha inseguito e insultato dai colleghi per aver preso a bordo un passeggero. Circo Mecumana sbloccati i cantieri. Questa mattina la firma delle prime nuove transazioni con le imprese per un importo di 130 milioni di euro. La soddisfazione di De Luca in 18 mesi raggiungeremo l'equilibrio di bilancio e appieneremo 700 milioni di debiti Eav. Ruggi, caso Cantone, De Luca indaga. Curriculum regolare, dice il manager dell'ospedale Salernitano. Tutto nasce da una ripicca dell'ex direttore dell'ASL Napoli 2 Nord. Ma De Luca avvia le verifiche con l'ufficio legale della regione. Il terremoto dell'80 nel libro di Sorvino. Presentato in prefettura da Avellino il volume dedicato al prefetto Guido Sorvino che racconta il drammatico sisma avvenuto in Irpinia. Il sottosegretario Bocci lavoriamo perché prevenzione e legalità evitino altre tragedie. D'Alema Benevento, il PD non ha più un ruolo. L'ex presidente del Consiglio è intervenuto nel capoluogo Sannita al convegno di consenso. Non mi occupo dell'ascessione ma il PD ha perso il suo ruolo. Serve un nuovo centrosinistra. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione del Yotto Channel News. Apriamo questa edizione con l'assalto al blindato e il terrore sul raccordo questa mattina appunto sull'Avellino Salerno. Un comando armato ha assaltato due mezzi portavalori. È successo a colpi di Kalashnikov. Hanno sparato i banditi, si sono difesi appunto anche i vigilantes ma soprattutto hanno raccontato. Erano spietati, feroci, erano pronti ad uccidere. Momenti di terrore questa mattina sul raccordo autostradale Avellino Salerno nel tratto di strada compreso tra Montoro e Fisciano in direzione sud. Un comando armato ha assaltato un portavalori della società irpina Cosmopol. Almeno tre i banditi all'opera che, imbracciando Kalashnikov a bordo di un doblò, hanno affiancato i due mezzi che trasportavano denaro destinato ad alcune filiale bancarie del territorio. Due i mezzi Cosmopol coinvolti, una Panda e a seguire il furgone. L'assalto, avvenuto circa mezzo chilometro prima dell'uscita di Montoro, è durato per circa 200 lunghissimi metri. Un intervallo di tempo nel quale il commando ha esploso dei colpi. I vigilantes hanno risposto al fuoco. Il vetro blindato ha evitato conseguenze tragiche e non si sono registrati feriti, come ha sottolineato un agente nei momenti immediatamente successivi alla rapina. È andata bene sicuramente, che non ci sono stati feriti, ma persone un po' più grandi insomma. I soldi portati via si trovavano nella Panda. Il bottino ammonta circa 100.000 euro. Il furgone invece è rimasto chiuso, anche se in più punti è stato danneggiato dai fori di proiettili. Diversi i bossoli recuperati dagli agenti della scientifica che hanno effettuato i rilievi. Dopo l'assalto i rapinatori sono usciti a Fisciano, abbandonando il doblò in una traversa laterale. Sul posto la squadra mobile di Salerno che ha avviato le indagini e la postrada di Avellino per ricostruire la dinamica. Ovviamente il traffico è andato letteralmente in tilt, code chilometriche e automobilisti bloccati. Solo dopo tre ore l'ANAS ha comunicato la riapertura ad una corsia dell'arteria e caccia al commando. Per adesso però dei banditi non c'è traccia. E adesso parliamo della protesta dei tassisti a Napoli. Non sono mancati i momenti di tensione questa mattina. Durante lo sciopero un crumiro è stato inseguito e minacciato dai suoi colleghi per aver preso a bordo un passeggero. Lo sciopero nazionale dei tassisti ha interessato anche Napoli. Questa mattina stoppa le auto bianche inchiodate a terra nei posteggi a Capodichino e alla stazione centrale. Lo stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi in tutta Italia diventa quindi un'assemblea spontanea e permanente in attesa degli esiti della riunione che si svolgerà domani a Roma al Ministero dei Trasporti. Si protesta contro il maxi emendamento del decreto 1000 proroghe che dovrebbe essere approvato a Palazzo Madama e che secondo i tassisti spianerebbe la strada alle multinazionali come Uber. Questa mattina non sono mancate le tensioni. Intorno alle 13 si è scatenato un inseguimento dei tassisti contro un loro collega che aveva preso a bordo un passeggero. Manovre rischiose nel traffico. Gli inseguitori scendono, circondano il taxi che non aderisce allo sciopero. Il tassista ha strattonato, i passeggeri terrorizzati. Uno del gruppetto degli inseguitori si posiziona davanti alla macchina, poi continua la corsa. Superato il semaforo di via San Felice, il taxi inseguito è di nuovo costretto a fermarsi nel mezzo di Piazza Bovio. Qualcuno apre il portellone e prende a calci la carrozzeria. Un altro si mette di nuovo davanti alla macchina. I passeggeri del tassista che non sciopera scendono dall'auto impauriti. La ragazza che era a bordo in lacrime mentre i poliziotti cercano di tranquillizzarla. E adesso parliamo dello scandalo che ha colpito la curia napoletana. Don Mario d'Orlando si difende dall'accusa di aver pagato un uomo per fare sesso. Ieri dall'altare della chiesa di Santa Maria degli Angeli si è rivolto ai fedeli. Ha detto dobbiamo perdonare il nemico. Intanto è attesa nelle prossime ore la decisione del Cardinale Sepe. Don Mario d'Orlando accusato di festini gay si difende. Lo fa dall'altare della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pizzo Falcone dove celebra la missa. I fedeli sanno tutto. Sono a conoscenza del dossier che la curia sta interpretando e in base al quale deve prendere provvedimenti. Don Mario nella sua predica parla del rapporto con il nemico. E' colui che ci mette in croce ha detto ai fedeli come accadde a Gesù ma il nemico va perdonato. Più tardi in sacrestia poi Don Mario torna a parlare del suo nemico. Il parroco del 28enne che ha raccontato di essere stato pagato dal prete per incontri sessuali. Il parroco al di là dell'omelia si è dichiarato estraneo alla vicenda. E' stato già convocato dal Cardinale Sepe un colloquio riservato al quale oltre a sacerdote della Basilica ha partecipato anche Monsignor Lucio Lemmo, vescovo ausiliare. Porte chiuse e bocche cucite dal palazzo di Largo Donna Regina non trapela nulla se non la grande amarezza dell'arcivescovo dinanzi a un nuovo e brutto episodio che vede protagonista un sacerdote della sua diocesi. Molti aspetti sarebbero stati già chiariti, altri sono ancora al vaglio dell'arcivescovo e dei suoi collaboratori che intendono andare fino in fondo nello studio delle carte per cercare di definire colpe e responsabilità prima di prendere una decisione ufficiale. Su tutti il vescovo ausiliare Monsignor Lemmo a cui materialmente lo scorso gennaio è stato consegnato l'esposto e che ieri ha anche partecipato al primo riservatissimo colloquio con il sacerdote della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Intanto nell'attesa trapela che Don Mario ha intenzione di lasciare la parrocchia un gesto per togliere dall'imbarazzo il Cardinale Sepe. Cambiamo argomento, sbloccati i cantieri di Comana e Circumo questa mattina la firma delle prime nove transazioni, soddisfatti il presidente De Luca e anche il presidente dell'Eav. Riparto nei cantieri dell'Eav, questa mattina la firma delle prime nove transazioni con le imprese per un importo di 130 milioni di euro. La società, aggravata da un forte indebitamento con i creditori, conta di raggiungere l'equilibrio di bilancio nei prossimi 18 mesi grazie ai 600 milioni di euro di finanziamenti statali ricevuti lo scorso 30 dicembre. Soddisfatto dell'operazione il presidente della regione De Luca che ha parlato di un miracolo. Abbiamo fatto un miracolo dal punto di vista finanziario. L'Eav aveva 600 milioni di euro di debiti da decenni. Siamo riusciti a strappare dal governo precedente 600 milioni di euro. Abbiamo avviato le transazioni che ci consentono di riaprire una decina di cantieri che erano bloccati da cinque anni. Questo significa firmare transazioni per 176 milioni di euro con un'assunzione di responsabilità, ma significa soprattutto poi varare lavori per un importo di 600 milioni di euro. Sono altri 600 milioni di euro che immettiamo nell'economia della nostra regione. Alla firma di questa mattina anche il presidente dell'azienda, Umberto De Gregorio. È quasi un miracolo. I miracoli non esistono perché io sono laico, però è un miracolo laico nel senso che rappresenta una occasione straordinaria di sinergia tra governo nazionale, governo regionale ed un'azienda complicata come l'Eav, per cui devo dire che sono soddisfatto al 100% dei risultati sino ad oggi ottenuti. E adesso parliamo della nuova tassa d'ingresso per accedere a Pompei. 80 euro è il balzello da saldare per bus turistici fin dal primo marzo, ma intanto questa nuova decisione ha scatenato le polemiche di ristoratori ed albergatori. Una nuova tassa sui turisti che visiteranno Pompei. Sarà di 80 euro il ticket che dovranno pagare a partire dal prossimo primo marzo i bus turistici che giungeranno nella città degli scavi. Alla tassa saranno obbligati i mezzi che superano i 7 metri di lunghezza. Da questa data, per 60 giorni, la tassa d'ingresso sarà applicata in via sperimentale. Vale a dire che nessuna contravvenzione graverà sugli operatori turistici ignari o non preparati al nuovo balzello. Ma dal prossimo primo maggio nessuno potrà più sottrarsi ad un ticket che già solleva le proteste dei commercianti e dei ristoratori pompeiani. È una nuova tassa, noi di tassa ne abbiamo fin sopra i capelli ed è un provvedimento che può solo fare del male all'economia cittadina che è escursionistica e non deve colpire chi viene qui e ci porta a lavoro. Deve colpire solo chi viene qui, usa e consuma Pompei senza portarci lavoro. Punto, la combatteremo in ogni sede. Prendere decisioni senza confrontare commercianti, associazioni, questo non è democrazia. Ci fanno pagare troppo soldi. Devono usare questi soldi che entrano per l'ingresso dei pullman, per servizi e per dare lavoro ai giovani. Penso che vada a intaccare le attività commerciali sicuramente. È giusto sperimentare, i risultati poi tirano se andrà bene o male. Per loro non sarà una bella cosa e di conseguenza neanche per noi sarà una bella cosa. Penso che saranno un po' scoraggiati dal venire e magari opteranno per altre tappe religiose. Beni per 3 milioni di euro, due ville e il capitale sociale di un panificio sono stati sequestrati dai carabinieri agli eredi di Giuliano Pianese, un esponente del clan camorristico Mallardo. I militari della compagnia di Giuliano stanno dando esecuzione al provvedimento emesso dal tribunale di Napoli tra Giuliano e Villaricca. Tra le attività illecite del clan figura anche l'imposizione del pane ai commercianti della zona. Un'indagine patrimoniale ha evidenziato una notevole sproporzione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare di Pianese e i beni in realtà posseduti. E adesso cambiamo argomento. Oggi Annalisa Durante, vittima innocente della camorra, avrebbe compiuto 27 anni. E appunto la camorra si combatte con la cultura. Proprio oggi si è tenuta la terza edizione di un libro per Annalisa Durante. Una maxidonazione avvenuta nel Duomo per la biblioteca intitolata L'Angelo Biondo di Forcella. Avrebbe compiuto oggi 27 anni Annalisa Durante se non fosse morta all'età di 14. Quella sera del 27 marzo del 2004 i killer volevano colpire e uccidere Salvatore Giuliano, 19 anni e nipote dei fratelli Giuliano, che rispondendo al fuoco invece uccise Annalisa Durante. Oggi la terza edizione di Un Libro per Annalisa, l'iniziativa realizzata per il terzo anno consecutivo dall'Associazione Studenti Napoletani contro la camorra, che hanno organizzato una maxidonazione nel Duomo di Napoli alla biblioteca proprio nel giorno del compleanno della ragazza soprannominata L'Angelo Biondo di Forcella. Crediamo che la biblioteca Annalisa Durante sia un vero presidio di legalità e di cultura in un quartiere come quello di Forcella, dove purtroppo le notizie di spari e stese, come le chiamiamo oggi, sono abbastanza ricorrenti purtroppo. La cultura è forse una delle armi più potenti per combattere la criminalità organizzata a tutti i livelli, non soltanto la criminalità che sentiamo in tv, dei clan, eccetera. Molto spesso è una questione più di mentalità e di cultura che altro. Un luogo che qui a Forcella non ci sta, adesso esiste questo luogo e si fanno tante iniziative qui dentro. C'è scuola, c'è teatro, c'è biblioteca, c'è tanti compiuti pure per loro, c'è cinema, c'è Nati per leggere. Ci sono tante cose che facciamo, si presentano libri, è una cosa che sta vivo dalla mattina alle 8, alle 8 di sera, per i ragazzi di Forcella. È una cosa bella che vive, se vive questo, vive sempre mia figlia attraverso tante cose. E adesso parliamo del caso di Tiziana Cantone, le indagini vanno avanti, si aggrava la posizione del suo ex, Sergio. Intanto parla ai microfoni di Otto Channel, la madre della bella 31enne morta suicida dopo essere finita nella gogna mediatica. Il rapporto di coppia tra Tiziana Cantone e Sergio è al centro della vicenda. Tiziana probabilmente lo aveva protetto, non indicandolo mai apertamente come il presunto responsabile di alcuni dei suoi tormenti. Tutto parte da lì per poi finire tragicamente con la morte della 31enne, la pressione del fidanzato a girare filmini pornografici e un'ipotesi che lancia sul tavolo delle indagini la madre di Tiziana Cantone, Maria Teresa Giglio. Le indagini sono arrivate alla svolta grazie allo sblocco dell'iPhone della bella Tiziana, che ha fatto luce sulle ultime ore della vita della 31enne. Mi auguro che le indagini vadano avanti e che facciano sempre più luce sulla morte della mia Tiziana. Spero che i responsabili rispondano del loro operato alla giustizia e che finisca quel silenzio in cui insomma sono stati fino ad ora e che questo suicidio clamoroso anche, a parte tutta l'agonia che ha subito mia figlia, che portasse insomma alla scoperta di tutti i colpevoli. E poi l'appello perché quanto accaduto a Tiziana non accada mai più. Vorrei anche che un certo tipo di uomini, se così si possono definire, non facciano del male ad altri ragazzi che hanno soltanto la colpa di essere magari nella sfera emotiva e sentimentale più fragili. Che si faccia anche qualcosa per quanto riguarda la responsabilizzazione di tutti i colossi del web. La cattiveria di quella parte del web che poi è una parte che è inquietante, e insomma è proprio oscura. Il giallo del contratto smarrito è la vendetta di un ex manager. Il caso dei falsi titoli che ha travolto il manager dell'azienda ospedaliera Nicola Cantone solleva molte polemiche. Lui si difende in conferenza stampa, i Cinque Stelle attaccano e De Luca intanto avvia l'indagine interna dalla regione. È un cantone infuriato quello che si presenta alla stampa negli uffici amministrativi di Via San Leonardo. Accusato di aver prodotto un falso curriculum che gli è valso come requisito per ottenere la nomina manager dell'azienda ospedaliera di Salerno, l'avvocato rinviato a giudizio spiega le sue ragioni. Il contratto incriminato riguarda l'incarico di vertice ricoperto nella casa di cura privata Villa Fiorita. Date e conti non tornerebbero secondo i magistrati inquirenti. Il documento sarebbe stato redatto in epoca successiva, il 2003. Poi che parliamo di un rapporto che riguarda il 2003-2008, poiché è stato smarrito, è stato ristampato. E questa ristampa che cosa ha determinato? La ristampa ha determinato che è stata utilizzata la carta intestata nuova sulla quale c'è il grosso scoop fatto dal dottore Ferraro dove emerge che la carta intestata presenta una certificazione che è successiva. Tutto è partito da una denuncia presentata dall'ex manager dell'Asla Napoli 2 Nord, quel Giuseppe Ferraro già condannato in primo grado per falso ideologico. Ho presentato questa denuncia perché c'è un forte astio nei miei confronti che nasce dal momento del mio insediamento, dove ho cercato di dare delle direttive improntate a determinati criteri di trasparenza e di legalità. Intanto, mentre i primari del Ruggi in un comunicato attestano la solidarietà e la fiducia del loro manager, in regione il Movimento 5 Stelle passa all'attacco e chiede la rimozione di Cantone dall'incarico. Il manager del Ruggi d'Aragona figurava nell'elenco dei 500 aventi titolo per fare i direttori generali, quindi è stato nominato perché era presente nell'albo. Il responsabile dell'ufficio legale è stato impegnato già da alcune settimane a verificare la fondatezza di queste obiezioni che sono state fatte. Se alla fine di questa indagine risulterà non rispondente ai titoli previsti, il curriculum del dirigente in questione sarà sostituito. E adesso passiamo alla politica. L'ex presidente del Consiglio d'Alema a Benevento per il convegno di consenso. Non mi occupo di scissione del PD, ha detto, ma il partito ha perso il suo ruolo. Serve un nuovo centrosinistra. Si è parlato di lavoro e naturalmente del momento che vive il centrosinistra in Italia con Massimo D'Alema, ospite d'onore dell'incontro organizzato a Benevento dal Movimento Consenso di Gianluca Cetto. Naturalmente l'ex presidente del Consiglio si è soffermato anche sulla ormai probabile scissione all'interno del PD, glissando però. Lo dovete chiedere a Speranza, Rossi ed Emiliano. Non a me, io non mi occupo di questa problematica, diciamo. I problemi che erano stati proposti abbiano ricevuto una risposta totalmente negativa. Cioè dalla necessità che ci sia un autentico centrosinistra, che promuova eguaglianza, che abbia una politica efficace per la crescita, che combatta seriamente la povertà. Tutto quello che finora sotto la guida di Renzi non è stato fatto. Ciò che ci divide sono i contenuti, sono le scelte, sono i valori direi anche perché il Partito Democratico, diciamo, sembra avere dimenticato i valori fondamentali, cioè quelli che dovrebbero essere propri di una grande forza di centrosinistra. L'ente idrico Irpini-Assagno parte male Colucci eletto presidente, ma si registra lo strappo nel centrodestra. Parte sotto cattivi auspici l'ente idrico Giovanni Colucci eletto coordinatore del Consiglio del distretto Irpini-Assagno senza però il centrodestra. Udc, Forza Italia e Mastelliani, che presentavano come candidato il Beneventano Giuseppe Ricci, hanno abbandonato la seduta di stamattina contestando la mancanza del numero legale. Ho chiesto di capire questa che cosa fosse, se oggi stavamo celebrando il primo Consiglio di distretto oppure se invece era semplicemente un seggio elettorale. Sembra di capire che nella visione del presidente Colucci questo sia stato meramente un seggio elettorale e una simile interpretazione è in contrasto netto con la legge 15, l'articolo 13 in particolare, che prevede che l'elezione del coordinatore avvenga all'interno della prima seduta del Consiglio di distretto. Poco rispettoso innanzitutto, non solo di tutti gli eletti dell'organismo che si va ad insediare, ad istituire, ma anche perché probabilmente si vuole protrarre ulteriormente quello che è stato un confronto che ha visto una legittima maggioranza essere eletto in questo organismo. Alla fine dunque ha votato solo il centro-sinistra e Colucci ha incassato l'elezione. Ai nostri microfoni indica le priorità del nuovo Consiglio. Le reti che sono vecchie, per cui abbiamo già approvato nel Consiglio dei sindaci in passato il piano degli interventi. C'è da rivedere il piano anche per quanto riguarda i nuovi finanziamenti. C'è da risolvere il problema di Benevento Città come depuratore. E c'è da affrontare i problemi delle gestioni in economia dei piccoli comuni. Fonderie Pisano, piano da 42 milioni di euro per il rilancio per il futuro. Stamattina al Comune di Salerno la proprietà ha incontrato gli amministratori mostrando nero su bianco il nuovo progetto. Il progetto e gli incartamenti ci sono e non sono astratti. Anzi, Ciro Pisano, amministratore delle fonderie, questa mattina al Comune di Salerno ha incontrato il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore Roberto De Luca. Nero su bianco, il rappresentante dell'azienda di Via dei Greci a Fratte, ha sottolineato la volontà di delocalizzare l'impianto con un investimento da 42 milioni di euro. Per il sindaco di Salerno Enzo Napoli è un passo avanti importante sul quale vigilerà sia Palazzo Guerra che la Regione Campania. Al primo posto, per la fascia tricolore, resta però l'impegno per la salvaguardia della salute dei cittadini. La stella polare è la salute dei cittadini, quindi la delocalizzazione della fabbrica è una ricollocazione, secondo delle possibilità che la proprietà sta valutando, dimostrando anche un certo attivismo in tutto questo, che però abbia come fatto dirimente la serietà e la severità per quanto riguarda l'impatto ambientale. Quindi tecnologie d'avanguardia e massima sicurezza per i territori occupati. La proprietà si è dimostrata, si è detta, disponibile a questo investimento importantissimo e noi ne abbiamo preso atto. Naturalmente seguiremo passo passo per quanto riguarda le nostre competenze e tutto questo, sapendo che c'è una Regione Campania con i suoi organi, particolarmente presente e particolarmente di garanzia per i cittadini e per l'occupazione. Tredicenne colto da Malore mentre gioca a pallone è stato salvato da un poliziotto fuori servizio. L'episodio è avvenuto a Marano, nel Napoletano, la gente ha utilizzato un defibrillatore durante una partita di giovanissimi regionali tra le compagini di Lanzaro e Ciro Caruso. Nel corso del match il ragazzino si è accasciato improvvisamente al suolo. Allertati i soccorsi, ma prima dell'arrivo del 118 il poliziotto è intervenuto tempestivamente utilizzando il defibrillatore della struttura sportiva. Il tredicenne sta bene, ma è stato comunque trasportato al Santo Bono di Napoli. Il terremoto del 1980 in Irpinia, visto dallo Stato nel libro di Stefano Sorvino, presentato oggi in Prefettura ad Avellino. Le emergenze e le tragedie si possono risolvere ed evitare solo con la prevenzione, la messa in sicurezza del territorio e una sempre più crescente cultura della legalità. Parole del sottosegretario agli interni, Giampiero Bocci, ad Avellino per la presentazione del libro di Stefano Sorvino Una vita più vite ricordando il prefetto Guido Sorvino. Proprio con questa legge di bilancio abbiamo segnato un cambio di tendenza. Il piano del governo, il piano casa, il piano della messa in sicurezza rappresentano una sfida direi ormai decisiva. È stata l'occasione per parlare della prevenzione sismica tornata quest'anno prepotentemente attuale nel centro Italia e che da sempre inquieta una terra come l'Irpinia. La prevenzione è molto avanzata. Il terremoto del 1980 ha rappresentato uno spartiacco, è un momento fondativo della moderna protezione civile, tuttavia nonostante i salti di qualità acquisiti bisogna ancora lavorare in questo senso. Il libro di Sorvino ripercorre la storia del padre Guido e del palazzo di governo avelinesi a cominciare dai drammatici fatti del terremoto che devastò l'Irpinia nell'80. Sorvino fu una figura centrale in quegli anni, lo hanno ricordato tanti prefetti arrivati da tutta l'Italia e le istituzioni in quel salone degli specchi della prefettura che proprio Sorvino frequentava a cavallo tra gli anni 70 e 80, prima come funzionario e poi come vice prefetto. Sorvino è stato sempre un ragazzo di prima linea, sedevamo quasi sempre insieme perché lui ha fatto pure il vice capogruppo al comune di Avellino. Sorvino è una bella intelligenza ed è una solita cultura. Un'interrogazione al presidente della regione Campania De Luca e all'assessore regionale alle pari opportunità per garantire la riapertura degli sportelli antiviolenza di Sarno e di Rocca Piedimonte nel Salernitano, chiusi dopo appena otto mesi di attività. Il consigliere 5 Stelle Michele Cammarano incalza Palazzo Santa Lucia, invitando De Luca a dare attuazione al piano sociale regionale che prevede la presenza di questi presidi in ogni ambito territoriale. A Salerno si rischia dunque di lasciare sole le donne vittime di violenza. Cammarano intanto sottolinea che gli sportelli dovrebbero essere delle priorità per le regioni, di cui l'interrogazione nella quale se ne chiede l'immediata riapertura. Adesso ci spostiamo a Benevento. Il sindacato Gilda interviene sulla polemica per la vicenda di un professore sannita che insegna in una scuola a Padova che dall'inizio dell'anno è in congelo straordinario e che sarebbe rientrato in servizio per un solo giorno prima di Natale, per poi chiedere nuovamente il congedo per assistere un parente gravemente malato, i particolari nel servizio di Alessandro Fallarino. La storia di un professore di Faicchio che per assistere realmente un familiare gravemente ammalato sceglie di mettersi in congedo straordinario dall'insegnamento in un istituto tecnico di Padova finisce alla ribalta nazionale dopo la lettera della dirigente scolastica pubblicata su un quotidiano nazionale è finita al centro della puntata di ieri dell'Arena di Giletti sul Rai 1 durante la quale il professore è stato aspramente criticato per la decisione di rientrare in servizio il giorno prima delle vacanze di Natale. Una ricostruzione faziosa spiega il professore sannita Raffaele Salomone Megna dirigente regionale della Gilda Insegnanti che ieri aveva partecipato alla trasmissione. Purtroppo io lì da Giletti non ho avuto molto spazio per poter fare chiarezza sulla cosa. Ci troviamo di fronte a una persona che purtroppo ha un disabile grave nella propria famiglia e quindi si parlava non di un privilegio dato a un docente bensì un diritto costituzionale dato a un disabile, una persona che soffre. Leggendo la lettera di quella preside, una cosa che balzava agli occhi ma in maniera proprio evidentissima è che lei diceva, assegnava, asseriva con grande tranquillità che dal 12 settembre fino al 2 dicembre non erano stati in grado di trovare un supplente. Poi era stato costretto a licenziarlo. Ma noi chiediamo a questa dirigente come si fa a impiegare 80 giorni per trovare una supplenza in una classe di concorso come la 019 che è la più inflazionata in assoluto? Una scuola di teatro per i giovani nel cuore del rione Sanità è la novità annunciata dal sindaco di Napoli De Magistris in occasione della mostra Totogenio 50 anni dalla morte del principe della Risata. Un legame indissolubile che viene sublimato in una mostra straordinaria e mai vista prima con inediti e soprattutto l'avallo della famiglia De Curtis. Napoli celebra Totò a 50 anni dalla scomparsa del principe della Risata con la mostra Totogenio che si inaugura il 12 aprile e sarà aperta fino al 9 luglio al maschio Angioino. Soprattutto per il sindaco De Magistris e l'assessore alla cultura Daniele che a Totò hanno dedicato il prossimo maggio dei monumenti è stata anche l'occasione per annunciare che a Palazzo dello Spagnuolo nel cuore del rione Sanità verrà aperto un centro di formazione per i giovani appassionati di teatro. Siamo particolarmente felici e onorati che la famiglia De Curtis e gli organizzatori Nicosia e Mollica e tanti altri abbiano scelto Napoli e l'abbiano scelta talmente fino in fondo come profondo e universale il legame tra Totò e Napoli che noi come città ci saremo ad accompagnare questa mostra quando farà il giro d'Italia e il giro del mondo. Credo di poter dire con sicurezza che è una delle più belle mostre che mai si sia fatta a Napoli e una delle più importanti che sia fatta in Italia. A margine della conferenza stampa il sindaco di Napoli ha poi commentato le polemiche nel PD con il partito di Renzi ad un passo dalla scissione ed ha ribadito poi l'asse con Sinistra Italiana. Quello che vedo in questi giorni mi sembra più una commedia all'italiana e devo dire un panorama abbastanza desolante. Ieri invece ho portato il mio saluto a Sinistra Italiana da ospite io non sono un tesserato di Sinistra Italiana stiamo in coalizione qui nel comune di Napoli con loro e siamo molto contenti di questo e ho visto comunque un clima interessante soprattutto nei confronti della città di Napoli. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale e buona continuazione con la programmazione di 8 Channel. Grazie per la visione!